Ciao bambini! Guardate cosa abbiamo oggi! Abbiamo un vero e proprio zoo! Io direi che una fattoria! Che ne pensate bambini? Io direi proprio che abbiamo uno zoo! Volete vedere tutti i nostri animali? Guardate! Abbiamo Jack, dietro Rosie e dietro dietro dietro... Vieni fuori, non fare il timido! Pino, il pinguino! Qui invece abbiamo Rainbow, abbiamo Pepe e abbiamo la Pezza Betta! Ciao Betta! E qui abbiamo Bunny, Billy e Kitty! Avete visto quanti animaletti carini? Voi quali preferite? Adesso non ci resta che far riuscire tutti e giocare tutti insieme! Ecco qua! Jack! Saluta Jack! Ciao bambini! Come state? Io sono Jack! E il turno di Rainbow! Ciao bambini! Io sono un unicorno! Vedete? Facci vedere la tua criniera! Sì, ho tanti tanti colori! Come un arcobaleno! Infatti mi chiamo arcobaleno! E ora è il turno di Pepe! Ciao Pepe! Ciao bambini! Come stai Pepe? Tutto bene? Sì sì! Sei davvero tanto buffo! Ma sei anche dispettosa come dicono? Un pochino! Ecco il coniglietto Bunny! Ciao bambini! Come stai Bunny? Tutto bene! Mi andrebbe proprio una carota! E purtroppo non ce l'abbiamo qui! Va bene! Io salto via! Ciao bambini! Ora abbiamo il maglielino Rosie! Guardate quanto è dolce! È veramente carino! Se guardate molto attentamente è pieno di glitter! Ciao Rosie! Ciao bambini! Ecco qui il simpatico cane Billy! Ciao Billy! Come stai? Bene! Boh! Avete un osso per me? Eh eh! Mi dispiace no! Te lo riporteremo la prossima volta! Ciao Billy! Ciao bambini! Ecco qua abbiamo la gattina Kitty! Guardate! Ha due colori! Ha un orecchio nero e una fucsia! Poi ha il panciotto rosa ed è veramente dolcissima! Ciao Kitty! Ciao bambini! Un bacione a tutti quanti! Ed ecco la petta Betta! Ciao bambini! Betta! Non ci verrai a pungere spero! No no! Ciao bambini! Ed ecco il più dolce di tutti! Abbiamo il pinguino Pino! Ciao bambini! Non essere timido! Saluta tutti! Ciao! Tornate a giocare con me! Sì sì! Ci torneremo! Questi bambini erano gli squishy pets della Bravo Giochi! Esatto! Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e tornate a trovarci! Ciao!